Ciao a tutti, bentornati sul mio canale, io mi chiamo Nadia e sono una redattrice di interni. Il video di oggi viene dedicato a una lampada di design italiano dal 1972 prodotta da Artemide. Parliamo della lampada da tavolo Tizio, quindi se questo video è del vostro interesse continuate a guardare. La lampada da tavolo Tizio è diventata un emblema del funzionalismo e di uno stile di vita alla ricerca del design. Inizialmente concepita come una lampada di lavoro, viene abbracciata dagli intenditori del buon design e presto diventa protagonista nelle reddite interni. Su proposta di Ernesto Gismodi, cofondatore dell'azienda italiana di luce Artemide, diede in mano al designer tedesco Richard Sapper di ideare una lampada che sposava armonicamente le nuove tecnologie e parliamo della lampadina allogena, una novità nel 1972, con una struttura flessibile progettata meticolosamente dallo stile modernista. La lampada Tizio impiega un sistema di contrapesi che tengono in posizione il braccio che regge la lampada, regolabile con un semplice tocco del dito. Praticamente il braccio ruota a 360 gradi su una pesante base e il piccolo riflettore può essere puntato in qualsiasi direzione. Prodotta in metallo, rifinito con un leggerissimo rivestimento di nylon rinforzato con fibra di vetro, la lampada ha aggiunte che non prevedono delle viti, ma si fissano grazie al meccanismo a pressione, in modo tale che se la lampada cade, le attacchi invece di rompersi si staccano e possono essere rimessi al loro posto. Dal 1972 ad oggi la produzione è realizzata dall'azienda italiana Artemide. Inizialmente viene proposta in diversi colori, nera, sobria e professionale, bianca, più delicata e discreta, e alluminio, versatile e neutra. Però nell'ultimo catalogo, quello più recente 2021, l'ho trovato soltanto nella versione nera, che è minimalista e moderna. Viene prodotta in tre misure diverse, con sorgente luminosa allogena oppure a LED. C'è Tizio Micro, che è la più piccola, altezza 43 cm, Tizio 35, altezza 56 cm, e la più grande è Tizio, altezza 66 cm. La lampada Tizio è diventata un'icona del design italiano conosciuto in tutto il mondo, protagonista di arredi in moltissime pellicole cinematografiche e design interni di alto livello. Tra l'altro è stata esposta nei musei più importanti dedicati al design, come Museum of Modern Art e Metropolitan Museum. Questa è stata una breve storia della creazione della lampada Tizio, una produzione di Artemide. Più dettagli potete trovare direttamente sul sito del produttore. Io vi ringrazio della vostra attenzione, vi invito ad iscrivervi al mio canale per conoscere più oggetti di design senza tempo. Intanto statemi bene e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!